lo dico ai maschietti non dovete mai avere la wanite la wanite non dovete mai averla cioè non dovete mai fissarvi su una perché bisogna lavorare diciamo con la pesca lo strascico come diceva forse qualcuno oggi se vuoi una donna specifica devi essere in grado di attrarre qualsiasi donna perché se sei in grado di attrarre qualsiasi donna se farai allenamento anche con le donne che magari ti convolgono un po di meno riuscirai a sviluppare poi queste abilità per per diciamo per coinvolgere le donne che che ti interessano ovviamente quindi questo è fondamentale perché acquisire la giusta mentalità il mindset un buon linguaggio del corpo far bene una prima impressione perché non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione e poi diciamo capire anche che cosa vuoi saper leggere il linguaggio non verbale di una donna i suoi segnali i movimenti del corpo quali sono indicatori di interesse quali non sono indicatori di interesse come produrre emozioni che atteggiamento avere normalmente l'atteggiamento è fondamentale perché avere un atteggiamento giusto è fondamentale quindi bisogna partire subito la prima cosa che devi fare è che devi uscire fuori dalla tua zona di comfort devi uscire fuori dalla tua zona di comfort perché perché ovviamente perché ovviamente se non c'è se non c'è diciamo possibilità hai poche hai poco hai poco da dire cioè questo è un concetto fondamentale se tu non sviluppi una giusta mentalità le possibilità sono sono poche e quindi devi uscire fuori dalla tua zona di comfort e allenarti perché come tutte le cose per sedurre bisogna per prima cosa allenarsi non importa sbagliare ma bisogna iniziare a fare quindi caro catramista se vuoi diventare se vuoi passare da catramista seduttore devi iniziare a fare delle cose e le prime cose che devi iniziare a fare sono quelle di agire quindi vattene al supermercato o per strada e provaci con qualunque donna ti capiti a tiro devi allenarti belle brutte alte basse grasse magre vecchie giovani tutte devi semplicemente dire una frase qualunque ciao mi chiamo massimo ti ho vista e mi piaci tu come ti chiami questa frase qua ovviamente non è che devi ripetere mi chiamo massimo ripeti metti il tuo nome poi ci sono anche i coglioni che ripetono il mio nome quindi ciao mi chiamo massimo ti ho visto e mi piaci tu come ti chiami oppure queste sono le frasi diciamo di approccio diretto poi puoi provare sperimentare un po di frasi di approccio indiretto ad esempio frasi del tipo ciao vorrei comprare questa ho visto che hai ho visto che hai un cappotto che piacerebbe regalare a mia mamma per dire a mia zia così la penalizzi pure dov'è che l'hai comprato ciao che bel cappotto che hai cioè vorrei regalarmi un modello uguale a mia zia dove l'hai comprato ecco quindi cose di questo genere questi sono approcci indiretti insomma mille ma non in poi in questa fase non importa la cosa che dici esatto ciao che bel vestito che hai vorrei regalarmi un modello uguale a mia nonna dove l'hai comprato che dimmi dove l'hai comprato ecco sono tutti approcci questi che comprendono anche una penalizzazione e e questo può essere molto utile perché ti fanno avere una faccia da culo diciamo la verità che la faccia da culo aiuta la faccia da culo aiuta e anche se inizialmente ti verrà come dire difficile magari fare degli avance devi allenarti qua è solo questione di allenamento non è neanche tanto importante accendo solo la luce un attimo non è neanche tanto importante non è neanche tanto importante diciamo se riesce o meno qui devi darti l'obiettivo di provarci questo è il mondo migliore perché inutile se no facciamo teoria facciamo tanta teoria e ognuno si diciamo fai la teoria va bene però bisogna anche fare pratica quindi e devi fare almeno cinque approcci al giorno devi fare questa per un mese cinque approcci al giorno sono solo 150 approcci poi alla fine non è che sono tanti non importa che ne vada qualcuna buon fino o meno ma guarda che ce la puoi fare a fare cinque approcci al giorno e anche senza spendere soldi anche se sei un catramista può anche andare bene anzi i soldi non spendere di fare una donazione al canale che ti darà qualche soddisfazione in più e vai e vai diciamo ad agganciare nei supermercati ad esempio i centri commerciali ovviamente magari dipende se abiti in una città grande ce n'è più di uno puoi girare se abiti in una città piccola vabbè insomma ti sposterai farai che cazzo vuoi insomma non lo so però comunque tieni presente anche che l'importante è provarci poi certo c'è la prima impressione piano piano ti miserai ma la prima impressione non è che sia poi così fondamentale anche perché poi una donna dimentica magari anche l'approccio come hai fatto perché è molto importante invece tenere presente un qualche cosa che il 93% della comunicazione passa a livello non verbale caro catramista per cui è molto più importante non tanto quello che dici ma quello che trasmetti attraverso il linguaggio del corpo quello che trasmetti attraverso il modo di dire quindi il tono di voce quindi la paralinguistica anche il modo in cui ti avvicini come la guardi negli occhi quindi devi guardarla negli occhi devi avvicinarti non diretto perché se ti avvicini in faccia puoi generare sempre aggressivo no? quindi devi fare la classica manovra di accerchiamento ma questo lo sanno anche i cani che è come si fa la manovra di diciamo accerchiamento no? e quindi se l'hanno capito i cani puoi capirlo anche tu che vuol dire che per fare un esempio vediamo un attimino se supponendo che questa gomma sia la donna diciamo supponendo che questa donna sia la gomma e tu sei questo ad esempio non ti devi avvicinare in questo modo diretto perché questa è la sua faccia no? se ti avvicini in questo modo diretto come dire lei tenderà ad andare indietro eccetera no? ma devi fare una manovra di accerchiamento in questo modo avvicinarti di qua quindi vai per un po' diretto ti sposti lateralmente anche in un locale devi fare questa mossa di accerchiamento quindi avvicinamento, allontanamento perché devi arrivare laterale arrivandole laterale è molto molto più efficace la cosa ma comunque in questa fase non è neanche tanto importante sviluppare una tecnica no? non è neanche tanto importante sviluppare una tecnica perché la cosa veramente importante è provarci quindi questo è un punto fondamentale ovviamente quindi solo il 7% della comunicazione dipende da quello che dici quindi tu devi concentrarti poi fondamentalmente di più su il messaggio non verbale quello che dici a livello non verbale questa è la cosa fondamentale ovvio che devi avere una, come possiamo dire devi sviluppare un po' di faccia da culo fondamentalmente perché se non sviluppi un po' di faccia da culo non riesci ad agganciare poi una donna quindi devi iniziare diciamo a ripeterti ad esempio delle affermazioni devi iniziare a ripeterti delle affermazioni, dei mantra che possano essere utili per te no? intanto devi superare soprattutto l'abbandono del rifiuto e iniziare a dire io non posso essere rifiutato eventualmente è rifiutato il mio modello di approccio ma basta cambiare il modello di approccio il rifiuto è fondamentale perché attraverso il rifiuto tu imparerai attraverso le cose che vanno bene non ci si fortifica mai quindi vedi il rifiuto come un preziosissimo alleato è impossibile non ricevere rifiuti anzi non dico che devi andare a ricercare rifiuti ma se per te diciamo se tu temi il rifiuto è molto importante diciamo andare a ricercare il rifiuto perché il rifiuto è fondamentale quindi inizialmente puoi anche dire le cose più strampalate che ti vengono in mente l'importante è provarci perché farai un allenamento e ti deciderai che ti puoi somministrare anche dei rifiuti quindi il rifiuto è la chiave per avere successo è la chiave per fartela dare un no significa un no detto da un'altra donna ti porterà a ricevere più facilmente un sì da un'altra donna quindi tutte le donne devono essere uguali non è che ce ne deve essere una migliore dell'altra questo è un altro mindset che tu devi avere non devi focalizzarti su una in particolare una vale l'altra in questa fase di allenamento diciamo una donna vale l'altra devi semplicemente allenarti quindi se ti rifiutano hai imparato qualcosa quindi con un'altra donna riuscirai a migliorare un pochettino devi avere, devi acquisire fondamentalmente sicurezza in te stesso quindi l'esperienza diciamo quindi fare delle cose quindi questa è un po' un'autopenalizzazione poi dici vabbè ma io sono timido bene ti autopenalizzi di più perché autopenalizzando ti vuol dire che inizierai a dare energia alla tua parte emotiva gliela darei tu l'energia alla tua parte emotiva quindi l'azione, il fare ti darà esperienza l'esperienza ti darà capacità, competenza la competenza ti darà sicurezza e la sicurezza ti darà autostima quindi piano piano avrai una nuova autostima riuscirai a creare diciamo una nuova immagine di te stesso un'immagine in cui sarai migliore sarai una persona migliore quindi puoi anche fare un ricalco sul futuro costruirti diciamo quella che in PNL viene chiamata linea del tempo cioè una linea sulla quale vengono messi gli eventi e tu puoi iniziare a visualizzare te stesso nel futuro che sei un grande seduttore che interagisci con tante donne che riesci a conquistarle tutte quindi poi acquisisci un sacco di competenze nel futuro poi te le riporti nel presente quindi queste competenze che hai fatto in meditazione riesci a, come dire, in meditazione perché attraverso delle, diciamo, delle immagini mentali ma l'immaginazione è fondamentale perché immaginare significa in me mago agire dentro di me agisce la magia quindi inizia a chiudere gli occhi immagina di essere davanti a una donna qualunque e di, diciamo, fare un approccio quindi allenati prima mentalmente nel fare gli approcci anche puoi visualizzarti tu nel tempo che diventi più bravo e poi prova veramente però puoi anche iniziare ad utilizzare dei mantra dei mantra che sono delle affermazioni che devi farti nei momenti di addormentamento e nei momenti di risveglio che, diciamo, ti faranno andare in una situazione sempre più vincente io posso sedurre tutte le donne che voglio io sedugo tutte le donne che voglio io sono il migliore io sono un seduttore io posso farmele tutte sono carismatico io sono magnetico io sono irresistibile tutte le donne si bagnano quando mi vedono prova a, diciamo, anche a immaginarti, no? quando parli con una donna che lei provi un piacere per te provi attrazione per te quindi immagina che questo accada perché è come se le mandassi un messaggio a livello analogico dire non appena lei sente la mia voce inizia a bagnarsi per dire ripeti queste frasi, no? si bagna appena mi sente appena mi vede si bagna ecco, quindi queste frasi, piano piano ti renderanno sempre più sicuro di te posso farmi qualunque donna nessuna donna mi resisterà ho un fascino incredibile sono un super seduttore tutte le donne sono attratte da me io posso sedurre qualunque donna insomma, ripetiti non è che devi ripetetele tutte queste frasi le può dire anche una donna ovviamente cambiandole ovviamente cambiando la cosa può dirle certamente anche una donna tutto quello che sto dicendo ovviamente lo dico come se seducesse un uomo ma la stessa mentalità la può acquisire anche la donna perché anche per la donna è importante avere una mentalità da seduttrice non sono io ad aver bisogno di lei e lei ad aver bisogno di me inizia a ripetere queste frasi perché queste frasi piano piano unite alle visualizzazioni andranno a ricreare la realtà quindi l'abbinamento diciamo tra le immagini mentali e per così dire le ripetizioni dei mantra daranno dei risultati in più ovviamente a tutta questa fase deve essere unita la sperimentazione perché devi sperimentare devi fare le cose quindi perché se no resta un qualcosa a livello mentale ma in realtà poi devi agire e nell'agire diciamo affinerai sempre più la tecnica sempre più la tecnica esattamente anche quello che dice la nostra stellina è corretto e e devi imparare ad accedere proprio alle tue risorse interne no? quindi tra l'altro puoi anche creare per il meccanismo degli ancoraggi emozionali delle emozioni piacevoli o comunque delle emozioni al fatto di che una ragazza ci sta quindi viviti pienamente l'emozione quando ci provi quando agisci quindi questo è un altro punto è un altro punto fondamentale no? il tuo obiettivo è quello di fare allenamento poi piano piano facendo allenamento vedrai che le cose andranno sempre più al tuo vantaggio e vedrai che le donne magari all'inizio in un mese nelle prime 150 magari non te la dà neanche una poi vedrai che nei mesi successivi magari su 150 te la danno 2 3 4 5 poi arriverai ad un certo punto che dovrai ridurre il numero di cose perché diciamo non è che puoi non è che puoi diciamo come dire trombartele tutte insomma quindi poi ci sarà un momento in cui dovrai comunque ridurre la questione quindi questo questo è importante no? agendo in questo modo vedrai che riuscirai a conquistare a farti tantissime donne e creerai anche quello che viene chiamato inner game cioè il tuo gioco interiore il tuo la tua capacità mentale di conquistare di diventare un uomo irresistibile capace di farsela dare da tante donne devi allenarti e inizialmente diciamo ripeto vai sulle 5 al giorno perché tanto su 150 magari il primo mese non te la da nessuno il secondo mese te la da una il terzo mese te la danno in due tre quattro poi vedrai che come dire dovrai ridurre gli approcci però se no ce ne saranno troppe a dartela e non ce la farei più a soddisfarle tutte quindi a quel punto lì quando non ce la fai più a fartele tutte passi un po' a una qualità maggiore perché per adesso erano come erano erano insomma non è che stavi vedere bella brutta alta grassa magra e dopo piano piano affinerai sempre di più le qualità insomma e quindi piano piano nel giro di qualche mese diventerai sicuramente acquisirai la mentalità giusta per per diventare un un seduttore un seduttore a 360 gradi insomma che sa sedurre anche la mente di una donna bene quindi esercitati nel frattempo iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai anche la notifica dei nuovi video grazie a tutti